Poi dice, questo atto è una scusa per non farlo alla moschea, questo atto, queste sono tutte balle. In queste ore il Consiglio Comunale di Pisa sta approvando una delibera che riguarda varie aree della città in cui non si potranno costruire nuovi edifici perché deturpanti il paesaggio circostante. Un edificio di culto ha bisogno di uno spazio libero davanti, quello sagrato della chiesa. Ora le moschee non saranno sagrato, si chiameranno in un altro modo, non lo so, però bisogna avere un certo respiro, non può essere affogato fra le case o fra le macchine o fra i parcheggi. Dall'amministrazione mettono in evidenza che il regolamento riguarda soprattutto il litorale, anche se il vincolo riguarda lo spazio dove verrebbe costruita la nuova moschea che nelle scorse ore ha avuto il sì della sovrintendenza. Ma a voi il fatto che la sovrintendenza abbia detto attroverso le opere di mitigazione potrebbe andare già bene o no? No, quello lì mi sembra una fresa in giro, quella di girarla dall'altra parte, ma che senso ha? Insomma, lì è un volume alto 15 metri, 1.500 metri quadrati, ma come in Lugiri è sempre quello. Questo per non farla fare lì. Poi se invece deve essere fatta fare lì, peggio per tutti, perché secondo me è un'offesa al paesaggio e anche creerà problemi urbanistici, problemi di traffico, insomma tutta una serie di problemi che vanno tutti a scapito dei pisani.